Allora, ho appena letto in un commento all'ultimo video sul rincalzo delle patate con la pacciamatura un commento in cui chiedete che cos'è il magese. Allora, cerco di rispondere partendo da questo visuale. A sinistra abbiamo una fetta di campo lavorata, pronta per la coltivazione, quindi pronta per andare in produzione di raccolti effettivi che siano finalizzati all'alimentazione umana o animale o altro. A destra, invece, come si può vedere, il terreno non è stato lavorato, bensì è in questo caso inerbito. Allora, nella tradizione agricola, nella logica della successione delle colture in una rotazione pluriennale, è prevista la stagione del magese, che fondamentalmente è un momento in cui la terra può riposarsi, in cui la terra non va a produzione, ma si lascia che, solitamente, la vegetazione spontanea si riappropria del terreno, lo riempia di radici, di assudati radicali, riattivandone così anche l'attività microbiologica. Tradizionalmente, successivamente a questa fase di rinerbimento, di riespressione di vegetatina spontanea, si poi ritorna alla lavorazione, venendo da questo attimo di rigenerazione, da questo attimo di respiro. Questa è la tradizione del concetto di magese, diciamo la radice un po' storica del termine. Questo concetto, però, quello di favorire la presenza di piante in virtù del miglioramento del suolo, noi lo possiamo usare anche in un altro modo. Ad esempio, se prendiamo in considerazione questa piccola fila di patate, vediamo che l'unica pianta che presenzia è effettivamente la patata, per cui questa terra vuole andare a produzione di patate e tutto lo spazio circostante è brullo, è arido, inorganico, desertico, proprio perché manca sostanza organica, perché manca l'humus. Allora, facciamo un passo in qua. Qui abbiamo già fatto manutenzione e l'impatto visivo è minore, ma se guardiamo questo pezzo di campo, ecco che si fa fatica a vedere le patate. Ci sono, basta scostare la vegetazione per vederle. Eccole qui. Stanno entrando in competizione per la luce con questa vegetazione, che non è spontanea, ma l'abbiamo seminata noi. Tecnicamente questa sarebbe una pacciamatura viva o concimazione verde, come dir si voglia, e la scelta dei semi utilizzati, in questo caso, essendo principalmente favino e pisello selvatico, rientrerebbe tecnicamente tra il sovescio. Questo sarebbe considerabile tecnicamente un sovescio. Ora, l'idea comunque è semplicemente quella di generare una qualsivoglia forma di vegetazione spontanea, come quella che abbiamo visto nell'altra parte del campo, che possa presenziare assieme alla nostra pianta da produzione, che però non è finalizzata una produzione. Cioè, prossimamente, vedremo qui, ad esempio, una prova di sfalcio e di pacciamatura con questa sostanza stessa, in virtù della crescita della patata. In questo caso, sappiamo già che le radici delle piante che noi andiamo a sfalciare, essendo piante comunque molto rustiche, potranno ricacciare, rivegetare, e tutta la parte organica, tutta la foglia, tutta la massa vegetale che ridiamo al suolo, sommata alla presenza del glorioso pacciame legnoso con un po' di letame in mezzo, andrà poi a decomporsi, ricreando il primo orizzonte organico che, attraverso le minime lavorazioni, puoi darà corpo al primo vero e proprio orizzonte A, cioè il punto di incontro tra l'organico e l'inorganico. Questa è una rapida e breve contestualizzazione, spiegazione. Lascio in descrizione in questo video alcuni link di altri video che approfondiscono il tema, nella fattispecie alcune puntate dell'evento online intitolato Dall'Orto all'Agroforeste, in cui si spolpa un po' meglio il discorso. Mi riprometto in seguito di fare qualche video in cui faccio vedere come ho preparato le miscele, che possono essere anche molto più articolate rispetto a questa, che è molto semplice. e per adesso è tutto, ci aggiorniamo. A presto!